Cosa è la cittadina? I programmi che arrivano tardi, insomma, è tutto quanto all'acqua di rose. Ovviamente poi si vede che dall'alto, dall'amministrazione, vengono a mancare proprio il tutto, è finito tutto, abbiamo perso un sindaco così, non so chi ha deciso, poi magari adesso metteranno un altro che farà peggio, non si sa, ci vorrà tempo. Per esempio mi viene in mente l'estate termolese, non abbiamo un'amministrazione, un sindaco, l'anno scorso che avevamo sindaco e amministrazione è uscita con un po' di ritardo, immagino che quest'anno non esca proprio, tutto questo fa male. L'unico denominatore comune per tutti e il bene della città è l'evolversi perché è rimasta un po' piatta, non ci stiamo muovendo più, questo dispiace.